Sembrano usciti da un film di pantascienza e invece i mutoid sono così nella vita di tutti i giorni. Il loro stile di vita evoca irresistibilmente quello che la letteratura e il cinema in film come Mad Max si sono divertiti a sognare sulla post-catastrofe nucleare. Usano solo materiali riciclati e trasformati dai rottami. Vecchi automobili, carlinghe d'aereo, pezzi di computer, televisioni scassate e quant'altro la società dei consumi butta via. Con questa preziosa ferraglia i componenti della mutoid waste company costruiscono creature meccaniche e rombanti macchine celibi che ricordano alla lontana i lustri precedenti di Duchamp e Tingeli e con le quali allestiscono spettacoli ad alto rischio. Dire di loro che sono un gruppo teatrale riduttivo. La loro ribellione creativa e poetica contro le insidie di una vita impiegatizia e borghese accomuna molti giovani delle società post-industriali che hanno scelto la vita nomade. I mutoid si spostano con carri rudimentali e vecchie roulotte, vivono in comunità come gli icpi di un tempo, ma fanno una vita dura. Tanto lavoro, niente confort, sempre con le unghie nere e spesso senza soldi. Una scheggio del movimento, che è aderente in tutto il mondo, è sbarcata manco a dirlo a Sant'Arcangelo di Romagna, patria del Sangiovese e del teatro d'avanguardia. E' qui infatti che queste strane creature preparano il nuovo spettacolo che debuterà in luglio al Festival dei Teatri. La Motoid Quest Company è una grande tribù disseminata un po' in tutto il mondo, in Australia, in Inghilterra, in Germania, in Olanda. Qui a Sant'Arcangelo siamo un gruppo di una quindicina di persone. Stiamo insieme da circa sei anni e ci fermiamo ovunque ci sia abbondanza di rottami a buon mercato per il nostro lavoro. Ultimamente siamo stati anche a Parigi, Barcellona, Berlino. Come ci guadagniamo da vivere? Ci esibiamo nelle piazze e nelle discoteche. Ogni tanto, sembra incredibile, c'è perfino qualche eccentrico che si compere a una delle nostre sculture. La verità è che in Inghilterra, durante gli ultimi dieci anni della Thatcher, si è chiuso qualsiasi spazio per chi vuole essere diverso e vivere fuori dalla norma. C'è un controllo sociale sempre più rigido. Pretendono che tutti vivano secondo gli stessi schemi e se prove di inventarti uno stile di vita alternativo rischi di passare un sacco di guai. Questa è una delle ragioni per cui ho lasciato Londra dove facevo l'insegnante per raggiungere i mutoid. Qui tra noi i rapporti umani sono estremamente più liberi e richi. C'è una quantità di gente che si è stufata dal modello consumistico e di sopportare lo stress della città. Molti credono che una vita come quella dei mutoid sia possibile solo se sei giovane e senza responsabilità. Beh, io vivevo a Londra con due figli, il mio bravo lavoro da assistente sociale e mi sentivo molto isolata. Ho trovato più semplice e divertente vivere così, da nomade. Anche i bambini adorano questo tipo di vita e sono convinta che ricevano un'educazione migliore che in masqualli da scuola di periferia. I rifiuti sono ormai l'unica risorsa realmente disponibile sul pianeta. La gente continua a bruciare risorse preziose per costruire nuovi oggetti, nuove macchine. Uno spreco totale. Se si rendono conto che noi riusciamo a sopravvivere allegramente con quello che loro gettano via, forse cambieranno atteggiamento. Perché tutto deve essere nuovo? Noi buttiamo tutto, c'è troppo spreco. Perché comprare le cose nuove? Ci sono così poche risorse rimaste sul nostro pianeta. Perché non riciclare le cose ancora utilizzabili invece di buttarle? C'è ancora tanta vita nel materiale usato. Noi cerchiamo di riportarla alla luce. Se sua figlia volesse andare in giro con loro per il mondo, ce la manderebbe? Adesso non è neanche tempo, non è che non ci voglia andare. Ma non lei, dico sua figlia. Perché se si trova bene può andare. C'ho dove abitano, no? E su cui c'ho il cavallo. Noi in passeggiata passiamo proprio nel loro campo, dove hanno tutta l'attrezzatura e a volte ci fermiamo anche a vedere, a notare tutte queste strutture che fanno loro, che sono cose proprio bellissime. Uno se non si crede non le vede, se non vede non si crede, insomma. Abbiamo un grigio di pecore, il nomade praticamente. La mia vita si abbinava molto alla sua. E quello che riconosce lì è presto morto. Io andavo come loro in giro per il mondo. E vorrei ritornare ancora. Era più divertente. Più bello, più sano, cose belle. No, sì sì, è bello che combattere con le mie tannine qui. Però... All'anno scorso, l'avete visto voi lo spettacolo? Sì sì, l'abbiamo visto, è stato molto bello, sì. Quest'anno lo rifate di nuovo, sì. Sì, è fatto molto piacere. Nella maggior parte degli altri paesi la situazione per noi era molto più complicata. Qui a Sant'Arcangelo, forse perché è una piccola cittadina circondata dalla campagna e il clima è più tranquillo ed accogliente, ci siamo sentiti subito accettati. Per questo abbiamo deciso di fermarci più a lungo. Ecco, quella che vedete è l'ultima macchina costruita da Joe Rush prima di partire per l'Australia. E dall'incontro di questi due geniacci, Joe, un artista straordinario, e Robin Cook, che invece è un meccanico di enorme talento, che si è sviluppato il nucleo storico dei Mutoidi. Sono tedesco, ma ho vissuto molti anni a Londra dove ho incontrato i Mutoidi. Prima ero un meccanico di Formula 1 alla BMW, ma la mia vita è molto più divertente adesso. Meglio fare l'artista che lavorare alla cadena di montaggio. E vi piacerebbe che le vostre opere fossero esposte in un museo? No, non vorrei richiuderle in una scatola finché possono continuare a correre per la strada. Questa è la mia ultima creatura, ci sto ancora lavorando sopra. La struttura portante è fatta con un telaio di una moto completamente rovesciata. Qui in basso ci sono le ruote, e qui è ralloggiato il motore, che ho sistemato più in basso. Anche la trasmissione è stata modificata. Ho collegato gli altoparlanti perché l'ho progettata per correre, ma soprattutto per fare un gran casino. Qua non circolano droghe, specie l'eroina. Si lavora sodo tutto il giorno e abbiamo bisogno di tutte le nostre energie. Ci sentiamo ottimisti e vogliamo creare qualcosa, non distruggere. Se qualche nuovo arrivato usa eroina, viene allontanato immediatamente. Vivere in una comune è come vivere in una grande famiglia. Quando si vive in appartamento in una grande città, come Londra, si può provare molta solitudine. Ci sono invece tanti vantaggi e molta solidarietà nello stare insieme, perché ci si aiuta l'uno con l'altro. Sono olandese. La mia prima casa era un camper. Per molti anni ho lavorato in un circo, facevo l'acrobat e il giocoliere in giro per l'Europa. A Londra ho incontrato i mutoidi e mi sono piaciuti. Mia madre era preoccupata che mi dedicassi alla politica, per ribellarmi al suo stile di vita. Adesso, visto come vivo, si è tranquillizzata. Beh, ho conosciuto Jay a Londra. Lui viveva già in una roulotte. Poi abbiamo incontrato i mutoidi e siamo rimasti letteralmente affascinati dalla loro energia, dalla loro creatività. E così abbiamo deciso di unirci a loro. Io non sopporto di stare in un posto più di tanto tempo. Anche a Jay piace questa vita nomade. Abbiamo molto in comune. Jay mi ha insegnato molte cose. Ci amiamo ma non siamo gelosi. Siamo molto liberi di andare e venire. Insomma, siamo felici. Siamo liberi di andare e venire.